Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà! Ciao, buona domenica! Ciao Mario! Ciao, ciao! Come stai? Ciao Dino! 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 Dicevo, eccoci nello spazio dedicato ai... Bambini! Bambini! E come sempre qui c'è Dino, il draghetto, che ci canterà... Una canzoncina! Che canzoncina ci canterà? Si chiama Topolino Topoletto! Topolino Topoletto! Stefania, tu la conosci? Sì, la conosco, è molto bella questa canzoncina! Va bene, allora io che anche la conosco cercherò di accompagnarti con la chitarra! Benissimo! Sono contento! Perfetto! Canta, 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 cantare in libertà! Allora, dimmi quando sei pronto che io ti faccio l'introduzione! Sì! Sono pronto! Ok! Topolino Topoletto! Zuu pa pa! È caduto sotto al letto! Zuu pa pa! È la mamma poverina! Zuu pa pa! L'ho giocato in cantina! Zuu pa pa! Topolino si è fatto male! Zuu pa pa! L'ha portata in ospedale! Zuu pa pa! L'ambulanza e la ferria! Zuu pa pa! L'ha portata in farmacia! Zuu pa pa! In farmacia c'era il dottore! Zuu pa pa! Topoletto è a dolore! Zuu pa pa! È il dottore come cura! Zuu pa pa! Ha preparato una cultura! Zuu pa pa! Topoletto all'improvviso! Zuu pa pa! È alzato su deciso! Zuu pa pa! Il dolore l'ha sparito! Zuu pa pa! Topoletto era guarito! Zuu pa pa! Bravo Dino! Grazie! Che bella questa canzoncina! Io me la ricordo da tantissimi anni quando ero piccolo! E tu saltavi sul letto? Certo che saltavo sul letto! E se non hai caduto? Però non lo dire a nessuno! Non si salta! Se non ci si fa male! Esatto! Meglio non saltare! Va bene! Allora c'è la neve fuori è vero? Siiii! Oh che bello! Accreddissimo! Bambini copritemi per bene! Se uscite! E noi poi diamo un appuntamento per domenica prossima! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.